Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvi e con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i Suoi letti da quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di Fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore In queste ultime domeniche dell'anno liturgico la liturgia, la parola di Dio, ci invita a fissare sempre di più, lo faremo anche e soprattutto nel tempo di avvento, sul finale della storia, sul ritorno di Gesù alla fine della storia. Gesù stesso ne parla con questo genere letterario che noi non usiamo più, che si chiama apocalittico, che non vuol dire un genere che parla solo di catastrofi e distruzioni, anche se poi si parla della luna che si spegne, delle stelle che cadono dal cielo. Sono immagini, non descrizioni reali. Per dire che cosa? Per dire l'intervento definitivo di Dio alla fine della storia. E alla fine della storia che cosa succederà? Ecco, ci sarà il raduno dei suoi eletti dai 420, tutti gli uomini, tutti i salvati, radunati intorno a Dio. Finalmente pacificati, un solo popolo, un solo popolo di credenti, un solo popolo di gente che ha imparato ad amare. E allora quello sarà veramente decisivo. Ma il Signore ci dice che questo raduno, che questa strada di apprendere l'amore, già comincia, è come il fico, c'è questa parabola, che quando arriva l'estate incomincia a mettere fuori prima i germogli e poi le foglie e poi i suoi frutti. Allora dice Gesù, cercate anche voi i segni di questa venuta del Signore, che non è solo quella alla fine della storia, ma è la venuta del Signore, diciamo, dentro la nostra storia di oggi. Non passerà questa generazione, dice Gesù, prima che tutto questo avvenga. Cioè che avvenga che cosa? Che il Signore comincia a radunare il suo popolo. Ha già cominciato da tanto tempo. È la Chiesa, è la comunità che si raduna. Ecco, cerchiamo anche noi i segni di questa presenza del Signore che non solo vuole radunare gli uomini nella sua Chiesa, nel suo popolo, ma vuole far apprendere agli uomini l'amore, la fraternità, la solidarietà, la vicinanza. Guardiamo i segni che da tante parti spuntano, non solo dentro la Chiesa, ci mancherebbe, ma anche dentro il cuore di tante persone che camminano insieme con noi e che sognano insieme con noi un mondo nuovo, un mondo più giusto, un mondo diverso. Tante persone che nel silenzio costruiscono la pace, costruiscono la fraternità, il perdono, il servizio. Chiediamo al Signore di vedere queste foglioline, di questo fico che stanno spuntando, di questa estate luminosa che si sta avvicinando. È la venuta del Signore, è la venuta nella nostra vita, è la venuta del Signore che verrà. Come dice Papa Francesco, non lasciamoci strappare la speranza di un mondo migliore. e la venuta del Signore, è 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 la venuta del